Per alcuni è una missione impossibile quella di Nicola Zingaretti, segretario da marzo del Partito Democratico, che va alle elezioni per il Parlamento europeo in un contesto per niente facile. Con alle spalle un 40,8% ottenuto dal PD renziano nel 2014 e un ben più magro 18,2% delle politiche di marzo, Zingaretti più che rilanciare deve lavorare per ridurre le perdite. Insieme a Carlo Calenda e al suo movimento deve accreditare il PD come sincera forza europeista, sostenendo la candidatura dell'olandese Franz Timmermans alla presidenza della Commissione, senza però farsi identificare con i cinque anni di politiche europee che molti hanno bollato di lacrime e sangue. Una posizione scomoda anche secondo il professor Salvatore Veca, docente di filosofia politica all'Università di Pavia. Il problema Zingaretti, che da un lato è europeista convinto e dall'altro però deve in qualche modo tener conto delle critiche di quello che non va. Così Zingaretti apre alla collaborazione con la Repubblica Marche del presidente francese Macron, lontano dalla famiglia socialista, dovendo però mostrare di avere compreso il crescente malessere delle classi medie di fronte al modello economico neoliberale e al regime dell'austerità. Insomma dovrà tentare di fare un miracolo e per riuscirci punta sulle alleanze. Quella con Siamo e Europei permette di candidare come capolista nel ricco nord-est l'ex ministro Carlo Calenda, che si presenta come liberale riformatore. Quella con Amarche è alla base dello scambio di candidature in un'ottica transnazionale, il renziano Sandro Gozzi in lista in Francia, l'italo-francese Caterina Vanza in lista col PD. Zingaretti infine dovrà provare a recuperare gli europeisti di sinistra, quelli che chiedono una netta svolta sul piano delle politiche economiche e sociali e che in tutti i paesi, dalla Spagna di Podemos alla Grecia di Siriza, leggono quella di Timmermans come una candidatura ancora in ritardo nel definire i punti di un programma davvero di sinistra. Se c'è una prospettiva veramente di civiltà europea, secondo me è quella dello sviluppo sostenibile, è quella del contrasto alla povertà, primo punto, è quella della parità di genere, è quella della riduzione delle disuguaglianze non giustificabili. Per ribadire la scelta europeista, il segretario del PD punta ad un'asse che vada da Macron a Tsipras, ma forse, secondo alcuni suoi critici, per vincere la sfida alle urne, Zingaretti dovrebbe girare lo sguardo verso Jeremy Corbyn, Pablo Sanchez e Antonio Costa e insieme a loro creare un fronte che punti a un cambiamento radicale e profondo dell'intero continente.